Arturo Vidal all'Inter, finalmente ci siamo, finalmente si chiude una lunghissima telenovela di mercato. Lo abbiamo atteso per giorni, settimane, addirittura mesi anche, perché se fosse stato per Antonio Conte Vidal all'Inter sarebbe arrivato al gennaio, se non addirittura la scorsa estate. Però, finalmente, gli ultimi dettagli sono stati risolti nelle scorse ore e le ultime visite al centro sportivo del Barcellona e si sta preparando lo sbarco a Milano, che nel momento in cui stiamo registrando questo video non è ancora avvenuto, ma davvero si tratta ormai di questione di ore. Trovate, tra l'altro, la notizia dell'operazione conclusa anche sull'app di OneFootball, l'app che utilizzo anch'io per tenermi aggiornato, per ricevere in tempo reale le notizie di mercato. Vedete i dettagli su Vidal, anche di Marzio, che conferma, ultimi dettagli burocratici risolti. E domani, cioè oggi, previsto l'arrivo a Milano con le visite mediche nelle prossime ore, probabilmente già lunedì. Operazione sbloccata dall'affare Diego Godin. Mi raccomando, ragazzi, vi consiglio, tra l'altro, anche la sezione trasferimenti dell'app, in cui vedete in tempo reale anche gli affari ufficiali, anche degli altri campionati. E, ovviamente, se seguite delle squadre in particolare, vi darà tutti gli aggiornamenti di mercato sulle vostre squadre di riferimento. In questo caso l'Inter, che, appunto, si trova poi anche nella sezione partite. Potete controllare tutti i risultati in diretta con le statistiche delle gare. L'app OneFootball, ragazzi, è gratis. Vi consiglio, quindi, di passare al link in descrizione e di scaricarla subito per restare aggiornati. Così non vi perdete neanche le operazioni di mercato, come appunto quella di Arturo Vidal, che è un'operazione chiusa. Da Barcellona continuano a dire che l'Inter dovrebbe versare un minimo indennizzo al Barcellona, si parla di circa un milione di euro. Sponda Inter continuano a dire che è un'operazione a parametro zero. Si tratta, in ogni caso, di un affare veramente low cost dal punto di vista del cartellino, se non a zero. Oneroso, ovviamente, per quanto riguarda l'ingaggio, perché Vidal è un calciatore con uno status internazionale che guadagna già parecchio. Ha accettato una piccola riduzione rispetto all'ingaggio annuale del Barcellona, visto che andrà a guadagnare 6 milioni all'anno su un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Comunque, un contratto importante per un calciatore importante, perché ci avete chiesto se secondo noi è un buon colpo. La mia risposta è che è un grande colpo. Per me è davvero un ottimo colpo. Che cosa porta Arturo Vidal all'Inter? Quindi lo vediamo subito. È un classe 87, innanzitutto, quindi ha 33 anni già compiuti. L'ultima stagione abbiamo seguito, io personalmente ho molto seguito il Barcellona e Vidal per me ha disputato un'ottima stagione, al di là di tanti che dicono che sia bollito a fine carriera. È stata una stagione da 43 presenze, 8 gol e 3 assist complessivi, impiegato principalmente come mezzala nel 4-3-3, che ovviamente quello del Barcellona è un 4-3-3 molto dinamico, molto mobile, ma ha giocato molto anche come trequartista quasi puro. Diciamo così, quindi con una propensione offensiva elevata. Lo vediamo tra l'altro anche in questa heatmap. Questo è un heatmap che vi fa vedere quali sono le zone in cui si è mosso Vidal, principalmente nella Liga 2019-2020, quindi nel campionato spagnolo concluso quest'estate. E in generale, tra l'altro, come vi ho detto tante volte anche nelle nostre dirette, ragazzi, quando eravamo a Barcellona a seguire Barcellona-Inter con i nostri inviati e con il nostro Fabrizio Scoglio, Vidal ci è davvero impressionato, perché anche in quell'occasione era riuscito a ribaltare la partita quasi completamente da solo. Quindi è un giocatore ancora integro fisicamente, che sta bene, che porta innanzitutto un palmares enorme, visto che ci siamo spesso lamentati della mancanza di esperienza, mancanza di calciatori, di personalità in questa Inter. Ecco, da questo punto di vista con Arturo Vidal si va sul sicuro. Una ventina di trofei importanti vinti in tutta la sua carriera, oltre 115 presenze in nazionale con 28 gol firmati. Carisma, non sono io a spiegarvi il carisma di Arturo Vidal e l'atteggiamento, comunque anche la voglia di vincere che porta questo calciatore che in carriera ha un rendimento complessivo nei club da 541 presenze, 104 gol e 74 assist. È stato anche il centrocampista della Serie A ad aver segnato più gol in tutte le competizioni, numeri praticamente da attaccante alla Juve nel periodo di Conte, tra l'altro fu anche l'uomo insieme a Pirlo che creò più occasioni da gol, addirittura 207 occasioni da gol nell'intero periodo di convivenza Vidal-Conte e quindi Vidal è un fedelissimo di Conte, un giocatore che con Conte si esprime al meglio. Ho pochi dubbi sul fatto che si integrerà alla perfezione fin da subito nello scacchiere di Conte. Porta quindi esperienza e gol, i gol da centrocampo, tra l'altro i gol dei centrocampisti, sono stati una grande lacuna dell'Inter degli ultimi anni. Secondo me la prima stagione di Conte ha un po' migliorato la cosa ma bisogna crescere e Vidal ha nelle gambe molti gol e aggiunge anche questo. Dicevo per quanto riguarda le soluzioni tattiche, Vidal si integrerà ovviamente, sa già cosa vuole Conte da lui, sa già cosa vuole Conte dalle sue squadre, porta immediatamente più soluzioni tattiche secondo me, perché innanzitutto va ad insidiare Christian Eriksen sulla tre quarti. Se si presenta bene in forma come penso e Conte continua a puntare su questo 3-4-1-2 che abbiamo visto nelle amichevoli estive e che diventa un 3-3-4 in fase offensiva. Abbiamo visto Perisic e Alchimi molto larghi con le due punte al centro e Eriksen in questo caso indietreggiare sulla linea dei centrocampisti. Il ballottaggio Vidal-Eriksen in questo momento è apertissimo secondo me. Dico ballottaggio perché per quello che abbiamo visto finora avere Vidal, Barella ed Eriksen a comporre il terzetto dinamico di centrocampo mi sembrerebbe un po' strano per quello che abbiamo visto fino ad ora. Quindi immagino Barella e Brozovic se resta Brozovic o al momento Gagliardini che sta ancora testando in alternativa a Brozovic in attesa di un titolarissimo se dovesse appunto partire Brozovic. E poi il ballottaggio Vidal-Eriksen per il terzo posto. Io credo che tra l'altro se parte Brozovic aggiungere un grande centrocampista lì titolare sarebbe la soluzione ideale e poi appunto a completare questo terzetto uno tra Vidal ed Eriksen. Lo schieramento con Vidal, Barella ed Eriksen che in molti hanno suggerito e in molti vedrebbero di buon occhio per me può essere utilizzato in situazioni diciamo di emergenza oppure in sfide in cui magari si vuole aggredire fin da subito l'avversario e si vuole cercare di chiudere fin da subito la partita può essere una soluzione altrimenti forse un po' troppo arrembante. Secondo me diciamo così un giocatore più fisico e di interdizione insieme a Barella e a Vidal o Eriksen che vengono a comporre questo terzetto serve. In alternativa un'altra soluzione tattica che si può avere con Vidal e Rosa è anche il 3-4-2-1 ovvero con due trequartisti alle spalle dell'unica punta una soluzione che nel momento in cui adesso la quarta punta è Pinamonti se Pinamonti non dovesse dare le giuste garanzie e quindi se è un po' corto in attacco avere due trequartisti a sostenere un'unica punta può essere un'opzione interessante. In generale a quest'Inter anche l'anno scorso mancava secondo me un vero diciamo assaltatore del centrocampo in grado di ribaltare l'azione e cambiare passo soprattutto negli ultimi 30 metri collegando meglio centrocampo attacco secondo me il collegamento tra le due reparti è molto mancato. Mancava un Nainggolan dei bei tempi diciamo così un Nainggolan in piena forma nel vivo della sua carriera Vidal secondo me è uno step sopra Nainggolan per questo non posso che essere molto molto soddisfatto dell'acquisto dell'arrivo di Arturo Vidal e considerando tra l'altro anche i primi segnali molto incoraggianti di Hakimi dall'altra parte anche Perisic sta facendo bene se sarà confermato personalmente ragazzi mancherà davvero un piccolo tassello un grande tassello lì in mezzo e poi poco altro per completare una rosa che non mi sbilancio oltre mi fa essere molto molto ottimista in vista di questa stagione. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi soprattutto del colpo Vidal che cosa vi aspettate dal centrocampista cileno scrivetemelo nei commenti avrò piacere di rispondervi di commentare di confrontarmi con voi quindi mi raccomando vi ricordo tra l'altro ragazzi in descrizione trovate anche il link al Patreon di Passione Inter che vi permette di accedere a tanti contenuti esclusivi e ringrazio anche chi ci sta già sostenendo con il Patreon di Passione Inter fatelo anche voi passate al link in descrizione e ovviamente cliccate sul pulsantino iscriviti perché è totalmente gratis ma per noi vale davvero tantissimo quindi mi raccomando iscrivetevi tutti i giorni siamo in diretta alle 19 tutti i giorni nuovi contenuti video e anche in formato podcast su Spreaker Spotify Apple Podcast e Google Podcast